Che cos'è il grado di protezione IP? Non sapete cosa significhi ogni numero o quale scegliere? Non preoccupatevi, in questo video vi spieghiamo come funziona questo standard internazionale in modo che possiate comprendere facilmente l'IP. Il grado di protezione in ingresso, meglio conosciuto con l'acronimo IP, classifica il grado di protezione del materiale dell'involucro delle apparecchiature elettriche nei confronti di corpi solidi o liquidi, come pioggia o polvere. Il rating è composto da due numeri. La prima indica il grado di protezione contro i corpi solidi e la seconda il grado di protezione contro l'ingresso di liquidi. Di seguito è riportata una tabella che mostra il significato di ogni numero in base alla sua posizione. Come vedete, più alto è il numero, più resistente è il materiale della copertura. Se un criterio non è stato testato, il numero viene sostituito dalla lettera X. Ad esempio, IPX6 significa che il materiale non è stato testato contro la penetrazione di corpi solidi. Perché è importante? Se cercate apparecchi per illuminare un bagno, una terrazza o un giardino, questo è un criterio da tenere in considerazione per motivi di sicurezza e di durata. In bagno dobbiamo sapere se gli apparecchi sono resistenti alla condensa di vapore o agli spruzzi d'acqua che si producono in questa stanza. Per questo motivo consigliamo i seguenti IP per le singole aree del bagno. Per l'illuminazione generale del bagno o degli specchi è sufficiente un IP44. In prossimità della doccia o della vasca da bagno, invece, è necessario un IP65. Passiamo al giardino. In aree semicoperte o coperte, come terrazze o portici, è necessario un IP44. In aree scoperte, tra IP44 e 65. A meno di due metri dalla piscina, bassa tensione IP67 e all'interno della piscina, bassa tensione IP68. Se cercate lampade con un IP specifico, potete accedere al nostro sito web e filtrare in base al grado di protezione desiderato. Con questo speriamo di aver risolto tutti i vostri dubbi sull'IP. Se avete domande, potete lasciarle nei commenti. Inoltre, se volete imparare altro ancora sull'illuminazione, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale.